Inizia quest'audit degli ispettori europei. Primo contatto oggi a cui hanno partecipato anche i consiglieri. Sì, dopo le riunioni con gli uffici e con tutte le agenzie e le istituzioni che agiscono sul territorio, ovviamente coordinate dalla regione, abbiamo pensato di dare l'opportunità ai consiglieri, anche ovviamente quelli dei gruppi di minoranza, di poter rappresentare un punto di vista, che è quello che poi semmai è emerso ciascuno per quelle che sono le proprie idee all'interno del Consiglio regionale. È evidente che non è stato un dibattito politico perché gli ispettori della Commissione hanno un ruolo assolutamente tecnico, tra l'altro riferibile al Ministero della Sanità, quindi alla funzione, al coordinamento della sanità, quindi alla DG Sanità Europea. Però sono emersi spunti interessanti, ci sono state questioni poste che hanno dato il senso di questo dramma per la nostra regione, per la nostra economia, per quello che è il livello anche di impatto sociale che questa patologia degli alberi ha e anche quello che è poi il, diciamo, ciò che vorremmo che la Commissione alla luce di ciò che verrà riferito possa immaginare per il futuro agricolo ed olivicolo del Salento. Credo che sia una dimostrazione di una regione che al di là delle polemiche si mostra unita per cercare di affrontare un tema che ovviamente ha anche una variegata pluralità di punti di vista ma che non può prescindere da un'unitarietà di fondo legata a questo sentimento un po' di ingiustizia che si vive. Paradoxalmente, oltre al danno degli alberi, è anche la beffa di essere individuati come inefficienti nella soluzione del problema. Il problema, purtroppo, come hanno ribadito, è scientificamente ad oggi irrisolvibile e la Regione Puglia si trova a fronteggiare una situazione con grande impegno, un impegno che è stato ampiamente riconosciuto, che ci dovrà portare, speriamo, ad attenuare ad oggi l'avanzata del batterio e poi, nel termine che la scienza ci consentirà, speriamo a debellarlo. Oggi è una fase dialogante, domani si va in campo? Sì, domani si va nella zona interessata dalla Xilella con una due giorni di analisi sul territorio, audizioni, ascolto, perché quello che serve alla Commissione è avere quante più notizie possibili, ovviamente sapendo poi cogliere anche quelle sfumature rispetto a chi queste notizie le rassegna, a chi queste notizie le riferisce, con l'effetto che poi però avremo il 31, una riunione di chiusura e poi al Ministero una interlazione con quello che è il nostro riferimento, insomma la procedura di infrazione e la maggior parte delle iniziative che stiamo ponendo in essere sono l'effetto di decisioni anche ministeriali e noi al Ministero ci rivolgiamo perché poi sia grande interprete presso Bruxelles, ad esempio per poter individuare quelle risorse utili alla rinascita del Salento e delle zone colpite perché si possa capire ad esempio il sistema dei vivai come potrà essere rilanciato per fare in modo che ci sia anche per l'agricoltura non professionale una provvidenza adeguata a ristorare i danni ad esempio di tutti quei piccoli appezzamenti di terreno condotti dagli agricoltori non professionali ma i singoli cittadini che hanno i terreni e che hanno gli ulivi. Tutti i consiglieri attorno a un tavolo con gli ispettori europei che cosa avete detto loro? Allora innanzitutto noi abbiamo messo io personalmente in guardia i commissari che oggi ci hanno accolto e di questo li ringraziamo dicendo loro che fino ad oggi non ci sono state le condizioni sociali ed economiche per le quali i decreti e le decisioni di esecuzione e poi i decreti ministeriali potessero essere eseguiti sul nostro territorio nello specifico ho sollevato ai commissari il fatto che in provincia di Lecce su 97 mila ettari di ulivo il 50% di questi 97 mila ettari, oltre anzi il 50% è detenuto da piccoli produttori che non sono neanche agricoltori e che non hanno le possibilità economiche di intervenire rispetto a quanto previsto dai piani di contenimento e di gestione su xylella fastidiosa. Pertanto abbiamo chiesto all'Europa non solo di fare leggi e norme ma soprattutto di aiutare il nostro territorio con risorse economiche. Questo è un dato molto importante in virtù del fatto anche che l'Unione Europea è corresponsabile di quanto è avvenuto sul nostro territorio perché ci sono dei decreti europei che riguardano le norme di quarantena che sono prerogativa, quando abbiamo introdotto il batterio, prerogativa dell'Unione Europea. Per cui l'Europa deve dare una mano alla Regione Puglia, deve dare una mano al nostro territorio da un punto di vista economico e di sostegno. Nei prossimi giorni continua sul campo la raccolta dei dati da parte degli ispettori invece da parte della politica regionale ci saranno riunioni di commissione. Ma è possibile presentarsi tutti uniti? Le quattro mozioni potranno avere magari la confluenza in un'unica in modo tale da presentarci anche più forti e più coesi? Guarderemo domani, c'è una riunione importante in capigruppo di cui io ne faccio parte e domani guarderemo appunto gli ordini del giorno che hanno presentato anche le altre forze politiche perché nel frattempo da quello che sappiamo sono state ulteriormente emendate. Per cui domani sul tavolo si cercherà di capire effettivamente se le emozioni che stanno presentando tutte le forze politiche hanno una linea comune, se c'è questa linea comune e soprattutto si interviene di fronte alle conflittualità locali che ripeto ancora persistono perché una questione importante è anche quella di dirimere lo scontro che c'è sui territori. Questo l'abbiamo sollevato anche ai commissari europei oggi. Da una parte quindi la situazione reddituale della nostra orivicoltura, penso soprattutto nella provincia di Lecce che ormai è sotto zero, e dall'altra le conflittualità, cioè i litigi che sul territorio permangono con tanti cittadini, abbiamo visto quello che è successo, che si sono opposti, penso al decreto Martina che ha purtroppo delle criticità molto importanti che poi portano a fasi di impasse come questa che il nostro territorio non si può permettere. Siete ottimisti che possa cambiare un po' l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della Puglia e che magari ci possa essere un ammorbidimento? L'Europa deve cambiare l'atteggiamento, questa è la colpa più importante, e io glielo ricordavo al presidente Michele Emiliano nell'ultimo consiglio monotematico. Allora l'Europa deve capire che essendo corresponsabile non può soltanto imporre dei diktat, ma deve essere collaborativa, perché nel momento in cui noi gli stiamo dicendo guardate che nel nostro territorio le condizioni economiche non ci sono, perché possano poi i nostri piccoli produttori intervenire con i piani poi richiesti da parte dell'Europa, allora in un certo ugual modo l'Europa deve prendere contezza della situazione pugliese, altrimenti andremo avanti con decisioni, decreti, norme e leggi che poi nella realtà troveranno poca applicazione.